Piano Sanitario, martedì prossimo l'assessore Gucciardi incontrerà Ribera e sindaci del territorio, riunione concordata dall'onorevole Cascio che dichiara si deve puntare a far classificare l'ospedale di Sciacca come struttura SPOC. Non sto affatto sottovalutando la situazione, sono pronte a reagire con forza se il piano sanitario dovesse penalizzare l'ospedale di Sciacca, il sindaco di Paola replica quanti l'accusano di atteggiamento attendista. Ieri sera è il conferimento della cittadinanza onoraria a Serroccoforte, sono emozionato e non mi aspettavo questo riconoscimento, ha dichiarato l'imprenditore italo-inglese che annuncia altri investimenti su Sciacca. Case popolari di Largomartiri di Viafano, una storia infinita, cresce l'esasperazione delle famiglie sfrattate da anni, Angelo Renda torna a denunciare delle lentezze burocratiche e il danno economico che la vicenda ha prodotto. Referendum e il comitato di Sciacca alle regioni del Nord, organizzato per domani sera al complesso della Baglia Grande, una conferenza di approfondimento del tema alla presenza del professore Gianfranco Pasquino. Pesca a bando da 16 milioni di euro per l'acquacoltura, l'annuncia l'assessore Antonello Tracolici. Oggi pomeriggio a Sciacca si parlerà di nuove opportunità per il comparto su iniziativa del GAC, il sole e l'azzurro. Un cordiale saluto, ben trovati anche oggi ad un nuovo appuntamento con l'informazione su Tele Monte Cronio, la sanità in apertura, nuovo piano sanitario. Martedì prossimo l'assessore regionale alla salute Baldo Gucciardi incontrerà a Ribera i sindaci dell'Agrigentino. L'annuncia oggi l'onorevole Salvatore Cascio che al nostro telegiornale aggiunge occorre appuntare sull'ospedale di Sciacca affinché venga classificato come struttura di primo livello SPOC come è previsto per il San Giovanni di Diodi Agrigento perché ne ha i requisiti. Il primo dei nostri servizi. Martedì 20 settembre alle ore 16.30 l'assessore regionale alla salute Baldo Gucciardi sarà a Ribera per incontrare i sindaci dell'Agrigentino e affrontare la questione del nuovo piano di riordino della rete ospedaliera. Lo annuncia oggi il parlamentare regionale Salvatore Cascio che ha promosso il vertice a fronte dell'allarme che si è generato nel territorio sul futuro degli ospedali di Sciacca e Ribera. È fondamentale, dichiara il parlamentare di Sicilia Futura, che la nuova rete ospedaliera di posti letto venga sottoposta alla concertazione con i sindaci, i consiglieri comunali e le organizzazioni di categoria della sanità che operano nel territorio. Salvatore Cascio va oltre e dichiara che occorre puntare in alto ad ottenere la classificazione dell'ospedale di Sciacca come struttura di primo livello SPOC al pari del San Giovanni di Diodi Agrigento. L'ospedale di Sciacca secondo questo nuovo piano è stato classificato con un ospedale di base. Questo non significa che saranno chiusi i reparti, però in ogni caso secondo il mio parere Sciacca ha tutte le caratteristiche per essere uno SPOC, cioè un DEA di primo livello. Quindi la questione che bisogna porre all'attenzione dell'assessore parte da far sì che Sciacca abbia lo SPOC e successivamente, siccome si tratta di ospedale riniti, si parli dell'ospedale di Ribera e relativamente a tranquillizzare la popolazione sulla questione relativa al pronto soccorso. Di fatto il pronto soccorso a Ribera non c'è da quando è stata chiusa l'ortopedia e la cardiologia, perché per avere un pronto soccorso è chiaro che i pazienti che hanno un trauma devono avere le prestazioni ortopediche o quelle che sono cardiopatiche devono avere le prestazioni cardiologiche. Però questo non significa che non ci sono stati medici per H24 che continueranno ad esserci. Quindi il ragionamento va fatto naturalmente con i sindaci, con gli operatori, con le organizzazioni in categoria, ma va fatta in una logica e nell'ottica del miglioramento e non per un fatto che tocca questo per una medaglietta che poi magari provoca più danni che altra. Dunque Sciacca e Ribera dovrebbero far fronte comune per puntare ad ottenere quel riconoscimento che merita la sanità del territorio. Sciacca ha le condizioni, perché il DM70, quello a cui fa riferimento l'assessore, che è un decreto ministeriale, dice quali sono i parametri per averlo spolti e dice che oltre a quelle quattro specialità di base, medicina, chirurgia, cardiologia e ortopedia, ci vogliono altre specialità, vedi l'orologia, vedi l'unità coronarica, vedi altre specialità, che Sciacca vedi la banca del sangue. Quindi nel momento in cui c'ha le condizioni, non capisco perché fare una politica a ribasso io partirei da quello che Sciacca merita, non è un regalo. Penso che questa sia la strada da intraprendere. Tra parentesi ci sono esperienze di piano sanitari in altre regioni d'Italia, vedi il Lazio, che ha fatto non questo numero di spocchi che ha fatto la Sicilia, ma di gran lunga superiore e quindi potremmo benissimo attenerci a quello che ha fatto la regione Lazio da questo punto di vista. L'assessore che cosa sostiene? Sostiene ma non cambia niente perché io non è che taglio servizi, non è che taglio reparti, vabbè e se non cambia niente è tanto ora che lo mettiamo spocchi. Non sto affatto sottovalutando la situazione, sono pronto a reagire con forza come ho sempre fatto se il piano sanitario non dovesse andare nella direzione da noi auspicata. Parla al nostro telegiornale il sindaco di Sciacca, Fabrizio Di Paola, che replica a chi ieri l'ho accusato di essere attendista. Sentiamo Di Paola da noi intervistato. Fermo restando che ancora non c'è nulla di ufficiale, visto che il nuovo piano sanitario non è stato ancora approvato dalla giunta regionale, io sono pronto in ogni caso a reagire con forza come ho sempre fatto tra l'altro se non saranno mantenuti gli impegni che l'assessore Gucciardi ha assunto quando è venuto a Sciacca. Non ci sta il sindaco Fabrizio Di Paola a passare per colui che starebbe sottovalutando la situazione riguardante il futuro dell'ospedale. Ieri sono stati i consiglieri comunali Mario Turturici e Salvatore Monteleone a parlare di atteggiamento attendista del sindaco. Ho semplicemente detto questo, che ho parlato con l'assessore Gucciardi, il quale lui ha rassicurato a me dicendo che le cose che erano state dette a Sciacca erano riconfermate e sarebbero state riconfermate nel piano sanitario. Secondo, che attualmente non ci sono documenti ufficiali che possono consentirci di dire se va bene o se non va bene perché ancora neppure la giunta di governo ha approvato questo piano sanitario e ne sono prova le dichiarazioni di crocetta. Terzo, che comunque noi siamo sul pezzo che vigileremo affinché se dovesse accadere qualcosa che va in contrasto rispetto a questo indirizzo, saremo pronti a reagire come abbiamo reagito, come abbiamo dimostrato più volte di reagire. Il sottoscritto ha ingaggiato confronti molto aspri con il direttore generale, con i vari assessori alla sanità che si sono succeduti in questa città. Sono pronto ad assumere tutte le iniziative necessarie a scongiurare qualsiasi rischio e pericolo per l'ospedale di Sciacca, ha poi aggiunto Fabrizio Di Paola. Penso che sia invece molto più opportuno stare ai fatti, stare alla questione ufficiale che in questo momento noi dobbiamo affrontare. Se quando sarà depositato il piano noi ci accorgeremo che le cose che ci sono state dette non sono assolutamente confacenti e proporzionate a ciò che si aspetta questo territorio e rimarco l'importanza del territorio e del suo presidio sanitario, non mancheremo di reagire nella giusta misura e nelle giuste sedi. Quando questo accadrà sicuramente il sindaco di Sciacca sarà in prima linea come lo è sempre stato, voglio tranquillamente ricordare a tutti. Sono davvero emozionato, un riconoscimento che non mi aspettavo, sono molto legato a questa città e sono pronto a nuovi investimenti. Sono le dichiarazioni che Serro Coforte, proprietario del Verdura Golf Resort, ha rilasciato ieri sera i nostri microfoni a termine della cerimonia durante la quale il sindaco Fabrizio Di Paola ha conferito all'imprenditore italo-inglese la cittadinanza onoraria. Per noi c'era Noemi Tummiolo. Tanti sindaci ed amministratori di diversi comuni del circondario, tanti cittadini saccenzi, associazioni, la giunta municipale ed il consiglio comunale di Sciacca. In un atrio superiore del palazzo municipale, gremito di gente, si è svolta ieri sera la cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria a Serro Coforte, proprietario del Verdura Golf Resort. Sono emozionato, diventare cittadino saccenza e mi riempie di orgoglio. Voglio continuare a spendermi per questa città, ha dichiarato ai nostri microfoni l'imprenditore italo-inglese al termine della cerimonia. È una grande emozione, una cosa completamente inaspettata. Sono molto legato a questo paese e ovviamente sono ancora più legato ora. Ho ancora più voglia di fare altre cose per mandare avanti questo paese. Anche i sentimenti sono importanti. Sentire questa accoglienza e questo riconoscimento mi dà molto coraggio e molto cuore. Io ho sempre creduto nell'investimento a Sciacca e gli ostacoli che ho incontrato per realizzare la struttura sono ormai un lontano ricordo, ha poi aggiunto Serro Coforte. Adesso sono un lontano ricordo, però durante quel periodo è stato duro. Io non l'ho mai lasciato andare, altri forse avrebbero abbandonato, ma io non volevo farlo. Ero proprio... quando mi ci metto, mi ci metto, non lascio mai. Anche se trovo delle difficoltà enormi, cerco sempre di superarle. Struttura ricettiva di lusso che ha aperto i battenti nel 2009. Il Verdura Golf Resort è oggi riconosciuto dalle maggiori riviste specializzate come il quarto resort più bello d'Europa, il primo in Italia e tra i primi 50 resort più belli al mondo. Di cosa ha bisogno Sciacca per veramente fare il salto di qualità e rispondere alle esigenze della vostra clientela del turismo di lusso? Sì, ma ci vogliono più strutture di alto livello in giro a Sciacca. Ci vuole un più grande influsso di persone turisti e così la richiesta che loro hanno farà crescere quello che è necessario in Sciacca stessa. Perché se non c'è abbastanza richiesta, alla fine è molto difficile fare i negozi, ristoranti eccetera, che ha di un certo livello. Ha parlato di città dalle grandi potenzialità l'imprenditore italo-inglese che ha dato anche dei suggerimenti per una migliore valorizzazione nel settore turistico. Sciacca deve puntare sul porto turistico e vanno superate le difficoltà legate alla destagionalizzazione per via dell'esiguo numero di voli diretti tra Palermo e le grandi capitali europee nel periodo invernale. Ha detto Roccoforte, che ha poi parlato anche di Terme e Torre Macauda. Lei ha manifestato interesse tempo fa anche per le Terme. Questa è una ferita aperta per la città? Non ho, non ho, non ho, non ho. Ero curiosità più che interesse. Non so, c'è qualche cosa che si dovrebbe fare. Però vedere due strutture come le Terme e Torre Macauda chiuse è un grande peccato per questa città. Sì, anche quello, anche Torre Macauda, perché Torre Macauda ha 400 posti in letto. Mettere a posto Torre Macauda è una cosa molto importante. Lei ha concluso il suo intervento dicendo voglio spendermi ancora per questa città, mi impegno a creare nuove occasioni. Che cosa voleva dire con questo? Non sono necessariamente piani concreti, ma sono in cerca di vedere quello che si può fare di più. Cittadinanza onoraria conferita non solo per il contributo che le Verdura Resorta ha dato allo sviluppo del territorio, ma anche per l'attaccamento di Serro Coforte alla città di Sciacca. Queste le motivazioni alla base della decisione assunta dal sindaco Fabrizio Di Paola, condiviste dall'intero Consiglio Comunale. Seguiamo quest'altro servizio. Per il suo attaccamento alla nostra terra, il suo esempio di serietà e concretezza, il suo contributo allo sviluppo del territorio attraverso il Verdura International Golf & Spa Resort, riuscito esempio di sinergia tra pubblico e privato. Sono queste alcune delle motivazioni per le quali il sindaco di Sciacca, Fabrizio Di Paola, ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria a Serro Coforte. Motivazioni che risiedono intanto nella constatazione della sua forte volontà di aver voluto negli anni questa importante iniziativa nel nostro territorio, anche contrapponendosi ad ostacoli che, come tutti sappiamo, nel tempo si sono messi di fronte a questa iniziativa e che hanno dimostrato alla fine poi il grande amore che Serro Co ha nei confronti di questa terra e che ha avuto un suo intensificarsi continuo nel tempo. Infatti io ho detto che era un'iniziativa che poteva farsi prima, poteva farsi dopo, ma penso che questo proprio di oggi sia stato il momento più opportuno a seguito di un cementificarsi di rapporto forte tra il territorio di Sciacca e del suo comprensorio e Serro Co. E quindi è stato un grande onore, noi accogliamo Serro Coforte come cittadino onorario di Sciacca con grande affetto e con un caloroso abbraccio. Si incrementa e si rafforza dunque il rapporto tra la città e l'imprenditore italo-inglese e si guarda chiaramente con fiducia al rinnovato interesse che Serro Coforte ha manifestato per la città lasciando intravedere la possibilità di nuovi investimenti. Lui lo ha detto più volte, lo ha dichiarato anche nel corso di interviste alla stampa, ne abbiamo parlato personalmente. Certamente lui ha fisso l'obiettivo del porto turistico perché ritiene che un'implementazione del nostro porto turistico potrebbe consentire ai suoi tanti ospiti che vengono con yacht e con barche di una certa importanza di attraccare direttamente nel nostro porto. Punta molto a convincere la regione siciliana a destagionalizzare le linee aeree perché non è possibile che in autunno e in inverno non ci siano linee dirette tra le più grandi capitali del mondo e Palermo. Non solo, ma non dobbiamo dimenticare che attraverso l'Avvocato Visocchi è stata anche formalizzata una richiesta alla regione siciliana di volersi occupare del polo termale. Quindi ci sono tante cose in cantiere e certamente il fatto che Serro Coforte adesso sia diventato cittadino saccenze incrementerà ancora di più questo bel rapporto che ormai si è creato con la nostra città. Un'iniziativa, quella assunta dal sindaco Di Paola che è stata condivisa dal Consiglio Comunale durante la conferenza dei capigruppo del 6 settembre scorso ed è stato il presidente di Sala Falcone Borsellino durante il suo intervento ad evidenziare tra le altre cose come tutte le amministrazioni, consigli comunali e sindaci della città che si sono succeduti negli anni abbiano sempre sostenuto l'iniziativa imprenditoriale di Roccoforte. Questa sera si è tributato un pubblico riconoscimento a Serrocco molto importante che è quello della cittadinanza onoraria, un riconoscimento a un imprenditore che ha creduto nella nostra terra e quelle che possono essere le sue peculiarità quindi abbiamo creduto tra l'altro anche come Consiglio Comunale perché c'è stato un deliberato unanime della conferenza dei capigruppo quindi un riconoscimento a una persona che ha dimostrato tanta tenacia nel suo investimento perché ricordiamo che nei primi anni del suo progetto ci sono state tante avversità lui ci ha creduto in quelle che erano le prospettive del nostro territorio e i risultati adesso sono sotto gli occhi di tutti. Oggi è anche il senatore Giuseppe Marinello a definire giusto e doveroso il conferimento della cittadinanza onoraria a Serro Roccoforte soddisfazione e compiacimento anche da parte del Consorzio Corallo Sciacca presieduto da Giuseppe Caruana. Ben trovati studio per la seconda parte del nostro telegiornale Loculi Cimiteriali chiesto che nel bando per l'assegnazione venga prevista l'assegnazione di tre loculi alle famiglie dei disabili la richiesta è stata formalizzata da Totò Allegro, Luca Garofalo, Giuseppe Sutere, Emanuele Bellitti e Francesca Nicolò si scaturisce dalla necessità di evitare che al decesso dei genitori il figlio disabile abbia un'assegnazione diversa da quella dei propri familiari sarebbe un gesto importante hanno scritto anche per i genitori di un disabile casse popolari di Largomartiri di Viafani sinistra italiana denuncia i ritardi che si registrano nell'iter per la giudicazione dell'appalto e l'esasperazione delle famiglie che da cinque anni hanno dovuto lasciare gli alloggi a tutto ciò dichiara Renda si aggiunge il danno legato al pagamento dei canoni di locazione sentiamo Riesplode un sentimento di protesta nella comunità che attende in vano la ricostruzione delle dieci palazzine di Largomartiri di Viafani a Ribera sono passati quasi cinque anni da quando l'amministrazione comunale ha emesso l'ordinanza di sgombero degli alloggi e nulla è stato fatto è quanto afferma oggi Angelo Renda coordinatore cittadino di sinistra italiana in una nota trasmessa ai vertici della regione siciliana dello IACP di Agrigento e dell'Urega al danno di chiara Renda nel documento oggi si aggiunge l'ennesima beffa per valutare il ricorso di una ditta esclusa al TAR sono stati necessari sette mesi il cui costo a carico dell'assessorato regionale alle infrastrutture è stato di 100 mila euro per pagare i canoni di locazione di abitazioni provvisorie prese in affitto delle famiglie sfrattate oltre alle spese del procedimento che saranno ripartite tra IACP e Urega di Agrigento in realtà è il caso di precisare che in questi 4 anni e mezzo è stato solamente il comune di Ribera a sostenere il peso economico degli affitti tornando alla questione dell'ennesimo intoppo burocratico il rappresentante di sinistra italiana evidenzia che la decisione del TAR era stata adottata nella seduta del 30 giugno scorso ma le motivazioni sono state rese note solo da qualche giorno adesso si riparte con il completamento e l'esame delle carte prodotte dalle ditte che dovranno portare all'assegnazione della gara di appalto dell'opera di demolizione di ben 10 palazzine e di 60 alloggi di case popolari dell'OIACP costruite negli anni 70 con cemento depotenziato e di ricostruzione degli stessi alloggi sulla stessa area con un finanziamento della regione di oltre 11 milioni di euro Angelo Renda ricorda di avere richiesto al TAR di Palermo tramite accesso agli atti copie della sentenza di riammissione della ditta esclusa per verificare se vi siano gli estremi per un esposto alla magistratura contabile C'era già stato un grave ritardo in alcune fasi dell'iter di ricostruzione poiché sostiene l'esponente di sinistra italiana non è stata intrapresa una minima pianificazione programmatica questa ricostruzione conclude certamente un'opera complessa ma dopo tutto questo tempo non può rappresentarsi solo come una scoraggiante e triste e cronistoria di impedimenti e di blackout procedurali Parliamo adesso di referendum in attesa di conoscere la data il comitato di Sciacca che porta avanti le ragioni del no ha promosso per domani sera alla Badia Grande una conferenza alla presenza del professore Gianfranco Pasquino dell'Università di Bologna considerato tra i massimi esperti di scienza politica a livello internazionale dell'iniziativa ci parla il referente del comitato le ragioni del no Carmelo Burgio vediamo Dottore Burgio è la prima uscita del comitato che si è costituito nei mesi scorsi intendete intanto rendere conto alla città spiegare le ragioni per le quali occorre andare comunque a votare E' questo il vero unico obiettivo di questo comitato questo comitato è nato spontaneamente liberamente tra coloro che hanno così esaminato un po' le modifiche proposte e che ritengono che ci siano delle discrezioni notevoli poi scenderà nei dettagli appunto domani sera il professore Pasquino il professore Pasquino è un professore merito di scienza politica è un accademico di fama internazionale quindi l'invito è rivolto veramente a tutti non solo a quelli che sono in questo momento orientati in un modo o nell'altro ma pronto per ascoltare ed entrare nel merito delle questioni giuridiche che si pongono con questa modifica proposta Capisco che è difficile spiegare in poche parole le ragioni del no se lei dovesse sceglierne qualcuna, quella che ritiene più importante Ma guardi, io parlerei di una cosa di cui si vanta il comitato per il SIO ho la proposta, quella della spending review, del Senato il Senato è stato organizzato in una maniera che definirlo forse un albergo è poco perché è previsto che vengano nominati all'interno del Senato dei consiglieri regionali e dei sindaci se noi pensiamo solo ad una cosa pensiamo al fatto che ogni anno ci sono dei rinnovi dei consigli regionali e quindi ogni anno ci saranno nuove gente che va e gente che viene quindi continuamente, guardi facendo una proiezione a partire dal 2017 che è l'unico anno in cui si vota solo in Sicilia quindi sono sette i membri che verranno cambiati negli altri anni a partire quindi dal 2018 ci saranno 30 deputati 30 senatori che cambieranno la prossima volta nel 2019 ne cambieranno 25 e via di seguito per non parlare poi dei sindaci nominati dai consigli regionali questi sindaci cesseranno le funzioni di senatore sia nel momento in cui cesseranno il mandato sia nel momento in cui sarà nominato il nuovo consiglio regionale quindi sarà un antirriviene continuo ecco, non è un'organizzazione diciamo seria che dia diciamo così una stabilità e un modo sereno, serio, professionale per affrontare le problematiche dell'Italia Ricordiamo quindi l'appuntamento domani sera alle 19 Sì, domani sera alle 19 alla Badia Grande aspettiamo numerosi appunto i nostri concittadini devo dire che anche da altre parti verranno persone ci saranno anche i coordinatori e il coordinatore provinciale io sono stato sabato scorso all'assemblea regionale dei comitati tutti erano ben contenti di accogliere l'invito quindi credo che ci sarà una grande partecipazione e vogliamo sperare che il professore Pasquino con la sua grande professionalità ci dia diciamo dei lumi in materia Convocato per il 5 ottobre prossimo il Consiglio Comunale di Menfi all'ordine del giorno l'approvazione del conto consuntivo 2015 del programma per l'anno in corso dell'istituzione culturale Federico II previsto anche il dibattito politico che inevitabilmente prenderà spunto la presa di posizione dei tre consiglieri del PD che la scorsa settimana hanno preso le distanze dall'amministrazione e dalla maggioranza è stato aperto dalla regione Sicilia un nuovo bando da 16 milioni di euro per l'acquacoltura i fondi rientrano tra quelli comunicati del FEAMP abbiamo fatto in modo di migliorare l'accesso al credito sostiene l'assessore regionale Antonello Cracolici così che tutte le aziende avranno la possibilità di partecipare senza lamentare mancanza di liquidità sentiamo Calogero Parla Piano pubblicato il bando sull'acquacoltura 16 milioni di euro di fondi FEAMP per investimenti produttivi nel settore il bando è destinato a finanziare investimenti al 50% al fondo perduto per l'acquisto di attrezzature e macchinari per gli allevamenti, edifici, terreni, consulenza ed altre voci di spesa in questa nuova programmazione stiamo dando spazio a progetti che valorizzino la ricerca il rispetto dell'ambiente e delle specie acquatiche afferma l'assessore regionale Antonello Cracolici insieme al Dipartimento Pesca abbiamo costituito un tavolo strategico sull'acquacoltura per incrementare e mettere in rete le competenze del settore con l'obiettivo di far crescere l'acquacoltura in Sicilia l'obiettivo è quello di favorire progetti che scommettano sottracciabilità, ripopolamento benessere degli animali acquatici conversione agli allevamenti biologici sostenibilità e innovazione per il risparmio idrico ed energetico grazie all'accordo sottoscritto ieri tra Assessorato regionale all'agricoltura e pesca mediterranea associazioni del settore e banca Monte dei Paschi di Siena sarà semplificato l'accesso al credito per le aziende con l'obiettivo di favorire gli investimenti nell'indotto del mare le somme finanziate attraverso il Fondo per la politica marittima e della pesca dell'Unione Europea saranno circa 120 milioni di euro per i prossimi sette anni al 50% a sfondo perduto risorse che abbracceranno tutti i vari settori produttivi e strutturali del comparto per la prima volta in Sicilia aggiunge Cracolici le aziende che parteciperanno a questi bandi del FEAMP potranno evitare di perdere opportunità di investimento per mancanza di liquidità ed avviare la pratica di finanziamento del prestito sulla quota a carico delle aziende sulla base dell'ammissibilità ovvero prima del decreto di finanziamento del contributo pubblico negli scorsi due mesi abbiamo già messo a bando ben 41 milioni di euro di fondi FEAMP le possibilità di sviluppo locale nel settore della pesca attività nell'ambito della programmazione europea 2014-2020 si parlerà di questo nel corso di un incontro di animazione territoriale promosso dal GAC Gruppazione Costiera del Sole Lazzurro di cui Sciacca è comune capofila in programma questa sera alle 18 alla sala convegni del Museo del Mare salute e prevenzione l'autunno è al deporte si parla già di influenza inizierà da metà ottobre la campagna nazionale di vaccinazione l'influenza di quest'anno si prospetta peggiore di quella del 2015 e per questo motivo l'invito a ricorrere ai vaccini non è rivolto soltanto alle categorie a rischio ma un po' a tutta la popolazione sentiamo Francesca Ciaccio non è neppure finita l'estate che già ci tocca pensare all'influenza partirà il mese prossimo da metà ottobre la campagna di vaccinazione contro i prossimi virus che per la maggiore pare che provengano dalla California da Hong Kong e da Brisbane in Australia e sembra anche che quest'anno la vedremo brutta peggio dello scorso anno i virus sono già arrivati in Italia un primo caso è stato identificato a Parma un bambino ricoverato in ospedale con febbre alta e bronchite se nell'inverno del 2015 si sono ammalato 82 persone su mille per il 2016 il dipartimento nazionale delle malattie infettive prospetta che saranno colpite molte più persone naturalmente le previsioni lasciano il tempo che trovano perché si potrà parlare di gente contagiata solo alla fine della stagione invernale sia perché bisogna fare conti con quanta gente si vaccinerà sia perché i virus subiscono spesso delle mutazioni da settimana a settimana e di mese in mese anche passando da un soggetto all'altro questi stessi virus che tra poco inizieranno a circolare in giro hanno già subito diverse variazioni rispetto allo scorso anno e questo predisporrà una maggiore circolazione della malattia il picco massimo è previsto nei mesi di gennaio e febbraio non si accertezza nemmeno dei sintomi ma verosimilmente la prossima influenza arrecherà febbre, dolori muscolari spossatezza, tosse e forse anche problemi intestinali per evitare tutto questo il consiglio dei medici è sempre lo stesso vaccinarsi una raccomandazione rivolta a tutti in particolar modo alle categorie a rischio come gli operatori sanitari i malati cronici gli ultra 65 anni e le donne in gravidanza ben trovati in studio per l'ultima parte del nostro OTG passiamo adesso al pizza fest festival della pizza riberese in corso a secca grande bene ieri per l'atteso concerto di Gino Paoli e Danilo Rea che hanno intrattenuto il pubblico con alcuni dei brani più celebri del cantautore rivisitati per voce e piano questa sera sarà invece la volta di un altro big della musica italiana Ron che presenterà il suo nuovo album la forza di dire sì sentiamo alla veneranda età di 81 anni Gino Paoli riscuota ancora un grande successo in tanti ieri sera hanno assistito al suo concerto a secca grande in occasione del pizza fest di ribera accompagnato al piano da Danilo Rea entrambi dal 2012 portano avanti il progetto due come noi che una serie di concerti che vede due attare insieme uno dei più grandi interpreti della canzone d'autore italiana e uno dei più creativi pianisti di oggi tra un brano che ha fatto la storia e una improvvisazione al piano Gino Paoli e Danilo Rea non hanno deluso le aspettative del pubblico di secca grande dopo il concerto del primo big invitato al pizza fest quello di due giorni fa di Paola Turci anche Gino Paoli e Danilo Rea ieri sera sono stati molto apprezzati questa sera sarà invece la volta di un'altra voce inconfondibile quella di Ron in tour con il suo album la forza di dire sì un disco doppio realizzato in collaborazione con 26 artisti italiani prima del concerto alle 19 il gruppo Joy si occuperà di intrattenere i bambini alle 19.30 verranno aperte le aree degustazioni e dalle 20.45 si esibiranno prima la cantante Denise Lombardo e poi gli Agate Quilina e i coverall gruppo live dopo il concerto di Ron è previsto per le 22.30 spazio alla dance anni 70, 80 e 90 se già in tanti si sono recati questa settimana a secca grande per il pizza fest nel weekend si aspetta una maggiore affluenza domani sarà la volta di un altro nome che ha fatto la storia della musica italiana Edoardo Vianello che molti aspettano per ballare le sue celeberrime abbronzatissima guarda come dondolo e pinne fucile occhiali a chiudere la nove giorni del pizza fest sarà infine il cabarettista Mino Abacuccio di Made in Sud E siamo al cinema i saccensi di Vincenzo Catanzaro e Liliana Abbene sono stati inseriti nel cast del nuovo film di Ficarra e Picone dal titolo L'ora legale il film girato a Termini Merese uscirà nelle sale cinematografiche a gennaio per Catanzaro e Abbene un importante riconoscimento raggiunto grazie alla loro esperienza maturata nel corso di una lunga carriera teatrale era l'ultima notizia siamo in chiusura grazie per essere stati con noi fino a qui appuntamento come sempre alle prossime edizioni arrivederci